I carabinieri della compagnia di Alghero nell'ambito dei servizi volti al contrasto dell'illegalità diffusa delle stragi del sabato sera e della prevenzione di illeciti connessi al fenomeno della Movida hanno effettuato un'imponente operazione con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi con importanti risultati ad Ittiri e Alghero. I militari hanno identificato 118 persone, controllato 42 veicoli e due esercizi pubblici. Sono state accertate 15 violazioni al codice della strada, ritirate 6 patenti, 4 le auto sequestrate, una persona denunciata per detenzione di sostanza stupefacente e altre 4 denunciate per guida in stato di ebrezza. Un assuntore di marijuana è stato poi segnalato alla prefettura di Sassari. I militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 39enne pluri pregiudicato, trovato in possesso di 45 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 30 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell'illecita attività di spaccio. L'autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Si tratta del secondo arresto effettuato nell'arco della stessa settimana, rientrante nell'incremento dell'attività di contrasto allo spaccio di droga attuata nei giardini pubblici di Alghero, nelle vicinanze del centro storico e nei pressi di scuole frequentate da bambini in tenera età. Dall'inizio dell'anno i carabinieri della compagnia di Alghero con tutte le sue articolazioni hanno effettuato 860 controlli, identificato 1160 persone e fermato ai loro posti di controllo 643 autovetture. Continuano gli incontri dell'amministrazione con la cittadinanza per presentare il progetto di riqualificazione delle periferie urbane di Sassari, che punta al rinnovo dei quartieri di Badimanna, Sassari 2, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa e alla ricucitura di queste aree con il resto della città. Dopo la fase di informazione ha preso il via lo scorso 15 gennaio il percorso di partecipazione pubblica con un primo appuntamento nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Ieri pomeriggio presso i locali della chiesa di Gesù Buon Pastore a Badimanna ha avuto luogo il secondo laboratorio di quartiere che ha visto coinvolti i cittadini e le cittadine dei quartieri di Badimanna e Sassari 2 in tavoli di discussione e con i quali sono stati condivisi i dettagli dei progetti. I tavoli sono stati quattro e hanno affrontato le seguenti tematiche. I flussi della mobilità, quindi la realizzazione della pista ciclopedonale delle stazioni di bike sharing, la creazione della piazza di via Saragat che nasce dall'esigenza di riqualificare un vuoto urbano posto a ridosso di via Pirandello, il verde urbano, lo sviluppo degli orti urbani e il recupero delle acque meteoriche, la costruzione di attrezzature collettive, impianti sportivi e arredi urbani, la realizzazione di un bel vedere nell'area compresa tra via Solina e via Bacelet. I laboratori di quartiere si tengono nell'ambito del progetto Euburu che vede la partnership del comune di Sassari e il finanziamento della fondazione di Sardegna. Insieme al vice sindaco di Sassari, l'assessore Fabio Pinna, allora proseguono questi incontri con la cittadinanza, oggi siamo qui nella parocchia di Gesù Buon Pastore, ospiti ancora una volta per dare voce ai cittadini. Sì, abbiamo fatto questo annesimo incontro molto positivo, abbiamo trovato una sala oggi molto attiva perché abbiamo visto diversi tavoli dove molti cittadini stanno partecipando e ci sono tantissime idee, suggerimenti, ci sono anche critiche, naturalmente tutte ovviamente costruttive e devo dire che è un bellissimo momento di confronto e di ascolto. Sì, in ogni caso la vostra amministrazione si sta dimostrando molto propensa all'ascolto dei cittadini, questo è un buon viatico per quelle che saranno le elezioni del prossimo anno? Beh, innanzitutto pensiamo a quella che è l'efficacia dei progetti, il rapporto con i cittadini, insomma, soprattutto i progetti che hanno così grande impatto per la città è fondamentale, a questo prescindere da qualsiasi altra vicenda futura, insomma, questa è la prima attività che teniamo. Cosa sta avvenendo fuori fondamentalmente da questi incontri? No, sta avvenendo fuori che nei quartieri, soprattutto in questo caso parliamo di periferie, nelle periferie c'è stata sicuramente grande attesa per avere un rapporto diretto con l'amministrazione, quindi non più un rapporto sotto il palazzo o dentro il palazzo, ma in contrario il palazzo, quindi comunque le istituzioni che vanno a incontrare i cittadini e questo è stato comunque molto apprezzato, questa è la prima nota positiva che tengo a sottolineare. Obiettivamente, ve la aspettavate una risposta così forte da parte dei cittadini, sotto il profilo della partecipazione soprattutto? Sì, perché soprattutto in quartieri complessi come Latte Dolce, Sassere 2, Badimanna, conosciamo già e che conosciamo già molto bene, sappiamo che c'è una popolazione molto attiva, quindi ce l'aspettavamo, ma devo dire che ci hanno anche sorpreso ulteriormente, perché effettivamente è stata forte con la partecipazione. In occasione delle celebrazioni per la giornata della memoria 2018, con il patrocinio del comune di Sassari, è stata organizzata una mostra di dipinti dal titolo L'Olocausto e l'Oblio. Pietro Sanna propone un progetto di grande impegno storico e civile, raccontando con le sue opere una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento. Le opere dell'artista cardiologo hanno infatti come tema l'Olocausto e la progressiva perdita di memoria di questi terribili eventi che con lo scorrere del tempo, nell'indifferenza dei molti, si compie. La mostra, inaugurata questa mattina nella Sala Duce di Palazzo Ducale a Sassari, è stata organizzata in collaborazione con Lampi e con l'Associazione Culturale Il Caffè delle Nuvole. In mostra, fino al 19 febbraio e con ingresso libero, oltre 30 quadri di grandi dimensioni che raccontano il percorso dell'Olocausto. In questa mostra sono raccontate storie relativi al massacro di persone, alla pianificazione di un genocidio, ma soprattutto alle indifferenze dalla volontà di rimozione dei ricordi. Vengono rappresentate figure di uomini e donne con i simboli di colori che le rappresentano all'interno dei campi. Sono raffigurate nel momento in cui, appena private della libertà, iniziano a perdere la loro identità, cominciano a diventare un tutt'uno con il simbolo, il colore ed il numero che si affaccia sulla loro pelle, iniziando il percorso che li porterà alla morte. Nella seconda parte della mostra, scandita da una canestra di melagrane simbolo del passaggio dalla vita alla morte, le persone scompaiono dalla scena ed insieme a loro scompare progressivamente il loro ricordo. Rimangono solo forme colorate dove, chi guarda con attenzione, con la fatica che la ricerca di un ricordo impone, riesce a distinguere ancora degli uomini tra i frammenti di colore. Infine, la vista degli accadimenti con le foto aeree ci porta in alto, lontano dalle cose. Sono definiti in rosso i campi, le camere a gas e i diforni crematori, tutti nascosti e circondati da una campagna scolorita di indicare l'indifferenza delle popolazioni che abitavano in prossimità dei campi. Si arriva al bianco indifferente dell'ultimo trittico, dove nulla è più distinguibile. Ancora oggi, parlando di quanto successo, ci sono silenzio ed oblio, il tentativo di riscrivere i fatti, di coprire i terribili accadimenti di quegli anni con un manto bianco che dissolva il ricordo di tutto. È tempo di bilanci in casa del Partito Democratico. Dal decreto del fare alla legge sul Biotestamento è il titolo del convegno che si è tenuto sabato scorso a Sorso nel Palazzo Baronale organizzato dal Circolo Cittadino. Al centro della discussione coordinata dalla segretaria del partito sorsense Maria Giovanna Del Rio e grazie alla presenza del senatore Silvio Lai, degli onorevoli Giovanna Sanne Gavino, oltre che del segretario provinciale Giampiero Cordedda, è stato fatto un resoconto sulla diciassettesima legislatura che si è appena conclusa. Anche quest'anno si è svolto l'ormai consueto appuntamento della gara di matematica organizzata dall'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari. La gara rivolta alle scuole media del territorio ha previsto squadre composte da sette studenti della stessa scuola che si sono sfidati in una vincente gara a punteggio di risoluzione dei problemi matematici. Sentiamo ora ai nostri microfoni la professoressa Cazzola a proposito dell'iniziativa. Noi da tanti anni facciamo queste gare di matematica a squadra. Questa di questo pomeriggio coinvolge le scuole medie di tutta la provincia, ma le facciamo anche all'interno dell'Istituto per i nostri ragazzi. Domani ci sarà la gara di tutte le nostre prime e poi di tutte le nostre seconde. Sono gare di matematica non tradizionali, nel senso che, come si può vedere, i ragazzi lavorano in gruppo prima di tutto e sono coinvolti non in modo statico, sedentario, ma in modo un po' movimentato. Vedono immediatamente proiettato il loro risultato, vedono a che punto, in che posizione della classifica sono rispetto alle altre squadre. Quindi è una cosa che li coinvolge molto e li trascina molto nello svolgimento degli esercizi. La ricaduta sui ragazzi è positiva perché appunto loro giocando non si rendono conto di trattare anche argomenti di un certo livello, che magari nelle ore tradizionali di scuola, nelle ore curriculari non si riesce a trattare per il tempo, per vari altri aspetti. Quindi noi cerchiamo in questa scuola di dare un aspetto anche un po' giocoso a quella che è la matematica. Stamattina, ad esempio, abbiamo anche intrattenuto alcune classi delle scuole medie con un gioco dell'oca, matematica inglese, in cui facevamo, abbiamo costruito una pista e i ragazzi stessi erano le pedine, lanciavano il dado e rispondevano ad una di matematica e ad una di inglese. Quindi ecco, stiamo cercando di coinvolgere, di innalzare il livello della matematica tanto bistrattata ad un livello un pochino più alto. Le vie Londra, Giacomo Matteotti, Napoli, Budapest e Principe di Piemonte sono le strade di Sassari che a breve saranno interessate dai lavori di cablaggio per la banda ultralarga di Open Fiber. Un'operazione che da una parte permetterà ad aziende e i cittadini di navigare su internet con una connessione ultraveloce e dall'altra consentirei rifacimento dell'asfalto in diverse zone della città. I cantieri, coordinati dal settore infrastrutture e della mobilità del comune di Sassari, stanno procedendo spediti ed in due settimane hanno riguardato già le Vieumana, Guarnerio, Nicolodi, Carlo Felice, Casu, Forlanini, Chironi, Montegrappe e Largo Budapest. Le tecniche utilizzate permettono di lavorare senza chiudere il traffico e riducendo così al minimo i disagi e la segnaletica verticale indica qualche giorno prima i tratti interessati dai divieti di fermata. È possibile che per completare i lavori gli operai di Open Fiber chiedano di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti e ai lavori la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. Gentili amici, salve a tutti, ben ritrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro notiziario. Siamo in compagnia di Franco Cassano, presidente provinciale dell'ACS FP Sardegna e con lui quest'oggi illustreremo questa grande novità per quanto riguarda l'ACS, un evento che si svolgerà i giorni 16, 17 e 18 febbraio 2018 nei locali appunto dell'ACS di Sassari in via Cedrino. Il tutto sarà l'Accademia di Musica e Spettacolo. Ecco Franco, illustraci questo evento. L'evento è un workshop di preparazione per il prossimo autunno che appunto vedrà l'istituzione dell'Accademia di Musica e Spettacolo. Per dare a battesimo questo appuntamento abbiamo voluto che partecipassero appunto i nostri docenti che così verranno a trovarci e naturalmente ad insegnare alle persone che si iscriveranno all'Accademia. Ecco insomma, oltre ai tradizionali corsi di formazione, l'ACS Sassari è una novità questa comunque per l'ACS? Sì, è una novità perché o perlomeno si riprende in mano quel momento, quel settore che riguarda lo spettacolo in generale, ma non solo musica ma anche della danza, il ballo e anche la parte della recitazione che è molto importante. Ecco, un avvenimento quindi molto importante, aperto a chiunque? È aperto a tutti. Ci saranno due sezioni in particolare che riguarderanno i junior, quindi bambini e bambine dai 5 anni ai 13 anni e poi invece ci sarà la parte del senior per tutti gli altri. Ci saranno alcuni esponenti che prenderanno parte a questo evento? Sì, sono dei... Di calibro nazionale? Sì, esatto. Per cittare qualcuno c'è Charlie Rappino che è uno dei giudici di Amici, Fabrizio Berlincioni che è un autore di trasmissioni televisive, in particolare quelle di Gerry Scotti, ma si è occupato anche di bambini. Berlincioni tra l'altro è anche un autore musicale, nel senso che delle canzoni che hanno vinto anche il Festival di Sanremo. C'è Massimo Cotto che è un giornalista, uno dei profondi conoscitori della musica rock, ma abbiamo anche altri personaggi della radio, abbiamo parlato di radio e abbiamo il direttore di Telenorba. Ecco, Carlo Gallo. Carlo Gallo, esatto. Esponenti veramente molto importanti del panorama radiofonico e televisione nazionale. Sì, e poi abbiamo anche una cantante che è Michele Raffotti che ha vinto Sanremo Giovanni 2011. 2011, sì. Allora, per partecipare cosa bisogna fare? Per partecipare bisogna o proprio recarsi in via Cedrino oppure, siccome abbiamo adesione anche dal Cagnaritano e dalla Sulcis inglesiente, bisogna scrivere un'email nel nostro sito www.xfpitalia.it e potete trovare tutte le informazioni. Perfetto, quindi non perdete assolutamente l'appuntamento con Accademia Musica e Spettacolo il 16, 17 e 18 febbraio 2018 presso i locali dell'AICS a Sassarin, via Cedrino numero 3. Ringraziamo il Presidente Provinciale Franco Cassano. E ovviamente in chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti li troverete all'interno del nostro sito internet www.telegi.tv all'interno del quale trovate anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Vi lascio ora la nostra pagina sportiva, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. La Dinamo affronta stasera al Palazzo Radimigni la Juventus Utena per la Champions League. Una gara che i bianco-blu devono assolutamente vincere per coltivare quella flebile speranza di qualificazione al turno successivo, legato però ai risultati della concorrente diretta Carciacca, la quale, vincendo, metterebbe la parola fine alle speranze di De Vecchi e compagni. Inutile dire che il morale non è dei migliori, anche se Pasquini sta lavorando soprattutto su questo, vista le ultime prestazioni. E proprio ieri, nella conferenza stampa di presentazione della gara, il coach ha spiegato le ragioni, a suo modo di vedere, che hanno determinato quest'ultimo periodo negativo. Un'analisi seria, responsabile e consapevole della situazione. Al termine del nostro TG, trasmetteremo la conferenza stampa integrale. Oggi, dunque, la Dinamo è chiamata soprattutto a dimostrare che la crisi si può mettere alle spalle. Vincere oggi servirebbe a ridare fiducia e morale a tutto l'ambiente, anche se la società ha anche un'altra patata bollente per le mani, cioè la sostituzione di Randolph, per la quale Sardara, Pasquini e compagni si stanno muovendo sul mercato. Attendiamo sviluppi. Giocare da Torres e vincere da Torres, dopo oltre un'ora in dieci uomini e con un finale in crescendo, culminato con il 2-0 sullo stintino nella quarta giornata di ritorno del campionato di eccellenza. E' accaduto tutto nel finale contro lo stintino al Vanni Sanna di Sassari. Due reti di Scioni e tre punti per la Torres che in dieci, dal 29esimo del primo tempo per l'espulsione di Mannoni, tiene ed ha un segnale importantissimo della sua presenza nel campionato di eccellenza. La prima rete è su rigore dopo un fallo di Serrizzo al quarantesimo. Il portiere dello stintino, Cherchi, non ci arriva ed è vantaggio sassarese. Arriva poi il raddoppio in pieno recupero ancora di Scioni, con gli ospiti tutti in avanti nel tentativo di acciuffare il pareggio. E' una prestazione maiuscola quella messa in campo dai rosso-blu di Mister Tortora al termine di una gara vinta tatticamente, oltre che sul piano della determinazione agonistica. Prossima sfida, domenica prossima sul Campo del Sorso. Prossima sfida, domenica prossima. Prossima sfida, domenica prossima. Prossima sfida, domenica prossima. Primo me, alagino, fira pozzù più, ma chiun' io ha, aria cagà. Primo me, alagino, fira pozzù, ma chiun' io ha, aria cagà. Primo me, alagino, fira pozzù, ma chiun' io ha, aria cagà. Primo me, alagino, fira pozzù, ma chiun' io ha, aria cagà. Primo me, alagino, fira pozzù, ma chiun' io ha, aria cagà. Ma chiun' io ha, aria cagà. PILLOLE DI BENESSERE Dalle 18 e 30 alle 20 e 45, dalle 22 alle 23 e 30.